17 giugno, notizie per una nuova Milano. Oggi sono diversi spunti interessanti. Allora, prima, brevemente le novità sul Covid di Milano, che sono novità direi positive, a cui danno ampio spazio i diversi giornali, come il giorno al Corriere della Repubblica. In primis che la Regione dà il via libera ai tamponi gratis per tutti. L'altro dato è questo, come ricorda Libero, attenzione solo su una cosa, probabilmente aumentando i tamponi aumenteranno i contagiati. Però la notizia positiva è che i decessi ormai da due giorni sono sotto i 10, cosa che non accadeva dall'inizio dell'emergenza. Che le terapie intensive si stanno svuotando, ormai ci sono solo 69 persone ancora ricoverate. Che i ricoveri correlati al Covid sono in media 11 al giorno negli ultimi tre giorni, quando nel periodo peggiore erano sopra i 1500. Altra notizia interessante che attesta un po' quello che è la coda dell'epidemia sono i dati ufficiali della Regione, che finalmente stanno dando anche dati dettagliati sull'origine dei nuovi contagi. In particolare si vede dagli ultimi giorni che un quarto, uno su quattro dei cittadini che hanno fatto il test ierologico, sono venuti positivi. Quindi significa che se dovesse continuare questa tendenza, un quarto dei cittadini, il 25% dei lombardi, avrebbe gli anticorpi. Uno su dieci di questi è stato poi tamponato ed è risultato positivo. Cioè uno su dieci è positivo poi al virus, però ci tengono a dire che si tratta di infezioni vecchie e con bassissima carica. Cioè sono già persone che ne stanno uscendo. Quindi dal Covid sembra che ne stiamo uscendo, però attenzione che potrebbero aumentare i contagi. L'importante è tenere sott'occhio decessi e malati in terapia intensiva che sono ormai in costante riduzione. L'altro grande tema, fortemente importante per l'Italia, ma anche per Milano, è quello dell'economia. Oggi c'è un bollettino di guerra. Nonostante che ieri la Borsa di Milano sia stata quella più in crescita a livello europeo, ci sono una serie di notizie, soprattutto il Corriere ci dà dentro in modo pesante, titola ad esempio sul Corriere Nazionale, che ci sono un milione di posti a rischio. Poi aggiungiamo altri dati, 270.000 aziende a rischio di fallimento. Le Monde, francese, che ha fatto una ricerca su tutto a livello del mondo occidentale, dice che l'Italia dovrebbe essere il paese più colpito al Covid, non solo per le finanze pubbliche, ma anche come numero di fallimenti dai privati. Poi nelle pagine del Corriere Milano si cita come stanno preparando una nuova manifestazione gli esercenti dei locali che dichiarano di aver perduto il 90% degli affari. Quindi a questo si chiude, diciamo che unisce tutto quanto, la dichiarazione di Bonomi, Presidente della Confindustria, che attacca il governo dicendo che sta preparando una fase 3 senza alcuna visione, cioè senza alcun principio di priorità, un disegno strategico, al che Conte replica dicendo che il piano uscirà a settembre e i commentatori dicono è già tardi. Prendo la palla al balzo sul concetto, sul problema dell'economia, perché, per riprendere un po' uno dei grandi temi degli ultimi giorni, che è questa caduta di Milano. Caduta di Milano che è provocata sia dai danni che sta venendo provocati dal Covid, ma anche da un modo di relazione nei confronti di Milano che è tutto fuorché di solidarietà da altre parti dell'Italia. Cioè ogni giorno vengono fuori notizie su come il resto dell'Italia si sta mostrando in sofferenza, supponenza, fastidio, mettete voi tutte le parole che volete, diciamo che noi milanesi e in generale i lombardi non sono visti bene, soprattutto in certe parti del paese. Sta avvenendo, secondo alcuni, quello che aveva preconizzato Luca Ricolfi, che in un articolo, nel suo libro, che poi è stato rilanciato da un'intervista su vari siti internet, dice che il problema dell'Italia, in sintesi, è che siamo passati da un paese malato di assistenzialismo a un paese che sta alimentando il parassitismo di massa. Qual è la differenza tra assistenzialismo e parassitismo di massa? L'assistenzialismo significa che chi riceve un aiuto continua a rimanere nel suo stato di bisogno. Quindi quest'aiuto, invece di risolverlo, lo mantiene nello stato di bisogno. Il parassitismo avviene quando chi riceve quest'aiuto non solo rimane nello stato di passivo e di bisogno, ma addirittura si scaglia contro per distruggere la persona che lo sta alimentando, che è, secondo, vista a livello macro, quello che non è solo un problema a livello italiano nel fatto che sempre di più ormai vivono in modo passivo, ma soprattutto spiega anche in parte, secondo diversi, questo atteggiamento nei confronti Milano e Lombardia che non solo non c'è riconoscenza per il fatto che è oggettivo, perché si parla di flussi monetari, di aiuti economici che sono andati in altre parti, ma addirittura, invece di avere riconoscenza, c'è un desiderio di distruzione, c'è un'ostilità diffusa nei loro confronti. Allora, il tema vero è questo, su cui ci dobbiamo domandare. Questa può essere, sicuramente è una situazione di grave pericolo per Milano, anche perché, come ha detto il sindaco Sala, ricordando il vecchio detto che se sei più in alto, chi sta più in alto si fa più male quando cade. Però ci sono tre punti, secondo me, che volevo condividere con voi, che sono gli elementi fondamentali da chiarire per il futuro di Milano, che fanno riferimento alla nostra oggettiva di debolezza per quello che sta accadendo. Il primo è quello della, come detto, dell'economia. Cioè Milano si è sempre identificata come motore economico d'Italia, in un momento di crisi sicuramente Milano è più colpita. Il secondo è quello che sta incidendo questa reazione anche al Covid, una reazione ovviamente necessaria, che è quello dell'isolamento, quello del distanziamento fra le persone, sta colpendo il DNA della città. Perché se vediamo qual è la caratteristica distintiva di Milano rispetto alle altre città d'Italia, è che tu, rispetto alle altre città d'Italia, tu diventi milanese nel momento in cui arrivi in questa città e aderisci a questa comunità. Non importa da dove arrivi, non importa se sei o non sei di origine milanese, però tu diventi milanese. E quindi questo si basa sul fatto che, dell'accoglienza, del fatto che si lavori insieme, del fare rete tutti quanti, e quindi il distanziamento, il considerare l'altro come un pericolo, e l'essere considerati come un pericolo, rischia di minare la nostra identità. A Milano, soprattutto, rispetto a altri luoghi, dove magari questa diffidenza è già una cosa più, diciamo, somatizzata a livello di società. E il terzo elemento è quello che il milanese è un viaggiatore, un milanese è chi tende, non solo ad andare via nei weekend, ma anche cercare di portare novità, innovazione positiva negli altri posti. Si era un po' forse esagerato, dicendo che i milanesi hanno creato la Lombardia, come diceva, mi sembra Briatore. Però è un dato di fatto che il milanese non viaggia, non fa il turista, va e cerca di apportare un valore dove trova un luogo che gli piace. E invece essere trattato nel luogo dove arriva, come un soggetto pericoloso, o comunque da guardare con grande diffidenza, anche questo mina nel nostro fondamento. Quindi, come se ne esce? Secondo me se ne esce, a mio avviso, innanzitutto, sul facendo leva su questi aspetti, perché non si tratta di questi aspetti che ho citato, economia, accoglienza e spirito del creare valore, non sono cose negative che dobbiamo togliere perché sono in un momento di crisi, ma semmai proprio l'opposto. Per diventare ancora più forti in queste identità, quindi insistere ancora di più diventare gli alfieri, ha dell'economia propositiva rispetto alla mentalità parassitistica. In secondo, quello del riportare è una sana fiducia fra le persone, l'altro non è un pericolo, io non sono il pericolo per l'altro, fino a prova contraria. Bisogna ristabilire la fiducia se si vuole rilanciare questo paese. E il terzo, il fatto che bisogna essere portatori di valore misurati per quello, non in base a stereotipi e pregiudizi. Quindi, io credo che questa sia una grande occasione per cementare ancora di più la mentalità milanese e impostare quello che noi ci battiamo come Milano-Città-Stato, richiedere anche una maggiore autonomia, non solo per creare uno spirito di corpo, ma anche per diffondere, e scusate il termine, contagiare in senso positivo con questi valori che ho appena detto, il resto dell'Italia, che mai come adesso ha bisogno di Milano. E la risposta giusta di Milano è quella che viene data, potrei citare, cito Tomasi Lampedusa, Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gatto Pardo, che tra l'altro secondo me si presta molto bene alla lettura di questo periodo dove effettivamente tutto sembra cambiare, ma in realtà si cambia perché nulla cambi. Questo è il grosso problema che è sempre accaduto nel nostro paese, soprattutto un tipo di azione tipica. Tomasi Lampedusa diceva, sostanzialmente una cosa simpatica, diceva volete sapere qual è la differenza fra noi siciliani, perché lui è siciliano e milanesi? Diceva che dato un problema, tu porti un problema al siciliano, dopo un po' di tempo ti porterà 10 idee per risolverlo, mentre il milanese non ti porterà nessuna idea. Dopo un po' di tempo il siciliano ti porterà 100 idee, mentre il milanese non ti porterà nessuna proposta. Alla fine tu avrai dal siciliano tantissime idee, anche geniale, ma alla fine avrai la soluzione già realizzata da parte del milanese. Questo l'ha detto da un siciliano, quindi è da un lato fa vedere la grandiosa creatività in certe parti del nostro territorio, che è sicuramente probabilmente più sviluppata, però al tempo stesso il DNA milanese è quello del fare senza starli a perdere in molte chiacchiere. Non perdendo molte chiacchiere, qual è la soluzione di Milano? Se non me è già quella che sta intraprendendo e vi cito tre esempi citati oggi dai giornali. Il primo è quello che il sindaco ha detto che, spero che non sia solo parole, però ha detto che ci sono i soldi, ci sono tutte le condizioni per estendere e ripartire nell'estensione dell'M1 verso Baggio e il parco delle cave. Quindi per Milano, noi milanesi sappiamo, quanto è importante la metropolitana, cioè anche per chi magari non la prende tanto, che la metropolitana continui ad estendersi ed andare avanti è fondamentale. Il secondo punto è il drive-in. Oggi, in un momento in cui c'è un problema di aggregazione, bisogna mantenere la distanza, c'è la partenza del primo drive-in al Parco Nord, via Senigallia verso il Parco Nord, un grandissimo spazio dove si potrà riprovare questa ebrezza del vedere film in macchina. Pagamento, mi sembra che dicano, che sia attraverso donazioni, ci saranno diversi servizi e questo non è il solo perché sta aprendo anche un drive-in a scalo Milano e un altro dovrebbe aprire l'idroscalo. Quindi questo è un secondo esempio. Il terzo esempio è la BAM. Oggi c'è una pagina dedicata dalla moglie di Catella, presidentessa della fondazione Catella, che dice sostanzialmente come il nuovo progetto che adesso parte quest'estate di BAM. BAM, per noi milanesi lo sappiamo è il piccolo parco che c'è nel nuovo cuore di Milano, quello in mezzo ai grattacieli, al bosco verticale e ad altro, che è molto amato perché è particolare, perché è un parco culturale gestito tra l'altro come attività da Francesca Colombo, un altro vulcano di iniziative e quindi non è solo un parco ma un parco vitale oltre che poi c'è tanto caro perché è l'unico parco del centro città che non è recintato. Ora, l'innovazione di quest'estate sarà l'IDO BAM, BAM è l'acronimo della Biblioteca degli Alberi. Cos'è l'IDO BAM? Se ho ben capito, praticamente è quello di riprodurre in una città dove probabilmente molti cittadini dovranno farsi gran parte dell'estate qua, tutto ciò che è l'allure positiva dell'IDO della spiaggia estiva e quindi con diversi servizi, diversi ombrelloni, trovare l'ombra, refrigerio, anche diverse modalità di acquisire fonti d'acqua, il tutto però garantendo la sicurezza del distanziamento e di altre regole Covid. Quindi, questi tre esempi che è la metropolitana che avanza, che meno cinema in difficoltà, ci sono i drive-in e si porta la spiaggia in centro a Milano, è quello che farebbe felice in questo caso il nostro Tomasi di Lampedusa, è la risposta di Milano, quella basta chiacchiere e si fa azione. Per concludere con la frase del giorno, vorrei citare Gian Giacomo Schiavi che vi consiglio se comprate il Corriere sempre di fermarvi sulla pagina delle lettere a cui risponde Schiavi che è un grande amante di una Milano sempre migliore, sempre in crescita, un po' come noi Milano-Città-Stato che vogliamo una Milano che diventi una gemma di civiltà, una luce. Si diceva non mi ricordo più chi diceva che Roma è un pianeta ma Milano è una stella. Ecco, Schiavi come noi è uno di quelli che la vede proprio così, una stella, cioè una che illumina e che diventa un centro di altri interessi di territori circostanti. Ora, nel Corriere di oggi ha un lettore che dice che questa emergenza Covid gli ha dato ancora più fastidio la tendenza di essere della RAI, di essere romano-centrica, che addirittura inviava gli inviati in regione Lombardia, questi inviati, e lui diceva sembravano mandati in terra straniera quando Milano è qua, cioè nel senso ce li abbiamo noi le persone che possono fare le cose. Schiavi dice che sicuramente questo governo come tanti altri ha perso l'occasione, dice letteralmente, dice questo. a proposito della RAI che fare un TG e una RAI più milanese dovrebbero essere in un paese una cosa normale visto che l'Italia è fatta diversi poli e il polo Milano è fondamentale soprattutto per la cultura e per l'informazione e lui dice, riferite al governo, questo. Ci voleva un po' di coraggio e Milano ora ha solo una strada dimostrare di averlo. Quindi anche sul coraggio anche sulla visione facciamole. Grazie a tutti.